Il Consiglio regionale è stato presentato un progetto di legge a firma del consigliere Franco Caramanico di Selle su incentivi per la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della canapa. Pochi sanno infatti che questa pianta ha innumerevoli utilizzi e la sua coltivazione può dare vita a nuove opportunità di lavoro in settori strategici. Caramanico, ma un progetto comunque singolare. Non direi, perché se pensiamo che negli anni 40 in Italia c'erano 1000 ettri di terreno dedicato alla coltivazione della canapa, adesso siamo nemmeno a 1000, ci rendiamo conto che era un settore che prima era molto sviluppato, che poi è stato messo da parte accantonata proprio dall'utilizzo del petrolio. Ecco, da questo viene fuori il titolo dal petrolio alla canapa. Io penso che la nostra attività deve essere finalizzata principalmente alla ricerca di nuovi settori e nuove opportunità di lavoro. La canapa sicuramente è una possibilità che tra l'altro riesce a coniugare, lo dicevo prima, la possibilità di creare posti di lavoro con la tutela ambientale. Perché questo progetto interviene sulla bioidilizia, interviene sulla farmaceutica, interviene sull'agricoltura naturalmente, con la possibilità anche, secondo me, di recuperare i 2500 ettri di terreni agricoli che noi abbiamo oggi abbandonati sul nostro territorio. Perché è una pianta molto utile che si presta alla coltivazione in tutti i settori e anche al di sotto dei 1500 metri.